ciao e bentornate nel mio canale in questo tutorial voglio realizzare insieme a voi questo bellissimo cardigan che ho chiamato cardigan primavera è un modello semplicissimo lavorato con un solo pannello e con solo due righe di punti quindi una riga è questa con i motivi avvi ed una è quella con le noccioline allungate sono due punti davvero molto semplici ma anche il modello della con cui ho realizzato il cardigan è molto semplice perché è un unico pannello senza cuciture e poi ho separato le due metà davanti dal resto dal dietro e ho ripreso ho cucito le spalle quindi ci sono soltanto due piccole cuciture e ho ripreso le maniche e anche se lavorate in tondo senza cuciture guardate che bellezza la meraviglia vi faccio vedere da vicino il dettaglio del punto e queste meravigliose sfumature ce le regala il filato che ho usato il filato che ho utilizzato è il meraviglioso flora color di mistrico filati e le sfumature che ho scelto sono queste vanno dal rosa al beige al tortora sono davvero eccezionali il filato è stupendo pelosetto morbidissimo è composto dal 30 per cento di lana e ha una resa eccezionale 100 grammi misurano 360 metri ho lavorato il mio cardigan con l'uncinetto numero 5 con l'uncinetto 5 e mezzo in modo da non far tirare le catenelle iniziali abbiamo una fila di 113 catenelle per la taglia s io sto avviando un campioncino soltanto per farvi vedere e come si sviluppa il punto che vi ripeto è lavorato solo su due righe una riga con i motivi v e una con le noccioline cominciamo dalla riga con i motivi a v cambiamo uncinetto e passiamo al numero 5 che è poi l'uncinetto con cui lavoreremo tutto il cardigan 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta sulla quinta 1 2 3 4 5 contando anche quella sull'uncinetto andiamo a lavorare il nostro primo motivo avvi con due maglie alte aperte e che andiamo poi a chiudere insieme una catenella di separazione è sempre nella stessa catenella ripetiamo due maglie alte chiuse insieme saltiamo 3 catenelle di base nella successiva ripetiamo un motivo avvi due maglie alte una catenella e due maglie alte le maglie alte chiuse insieme saltiamo 3 catenelle andiamo avanti due maglie alte chiuse insieme una catenella 2 maglie alte chiuse insieme saltiamo 3 maglie e lavoriamo di nuovo un motivo avvi adesso ci troviamo le ultime due catenelle ne saltiamo una e nell'ultima andiamo a lavorare una maglia alta così abbiamo iniziato e finito allo stesso modo con una maglia alta all'inizio sostituita da tre catenelle e alla fine con la maglia alta lavorata appunto normalmente e se avete lavorato quindi nel modo giusto alla fine del primo giro dovete avere 28 ventaglietti di due maglie alte chiuse insieme una catenella e due maglie alte chiuse insieme iniziamo il secondo giro 3 catenelle per iniziare voltiamo il lavoro una catenella di separazione e andiamo a realizzare le noccioline di maglie allungate all'interno dei motivi avvi quindi nello spazio di una catenella lavoriamo in questo modo tiriamo l'anellino in modo morbido per quattro volte 3 e 4 poi passiamo l'uncinetto attraverso tutti gli anellini e lavoriamo una maglia bassa così abbiamo fermato la nocciolina poi lavoriamo due catenelle tra i motivi avvi in questo spazio lavoriamo una maglia bassa di nuovo due catenelle e ripetiamo la nostra nocciolina di maglie allungate 4 maglie allungate quindi una due tre quattro e e fermiamo con una maglia bassa di nuovo due catenelle ed una maglia bassa due catenelle e una due tre quattro maglie allungate estraiamo l'uncinetto e fermiamo con una maglia bassa 2 catenelle ed una maglia bassa 2 catenelle poi lavoriamo l'ultima nocciolina una catenella di separazione ed una maglia bassa sull'ultima maglia bassa del giro ho così lavorato il secondo giro adesso vi faccio vedere come si lavora il terzo giro che è lo stesso del primo però anziché lavorarlo sulle catenelle dobbiamo lavorare ovviamente sui motivi e con le noccioline quindi partiamo dal dall'inizio quindi tre catenelle ora andiamo direttamente sulla maglia bassa sopra la nocciolina e qui andiamo a lavorare i nostri motivi a v quindi due maglie alte chiuse insieme una catenella e due maglie alte chiuse insieme passiamo all'altra nocciolina dove c'è la maglia alta sopra la nocciolina inseriamo l'uncinetto e lavoriamo due maglie alte chiuse insieme una catenella e due maglie alte chiuse insieme e proseguiamo così per tutto il giro lavoriamo l'ultimo motivo a v sopra l'ultima nocciolina e chiudiamo con una maglia alta e poi andiamo a ripetere nuovamente il giro con le noccioline quindi alterniamo il giro con le noccioline e il giro con i motivi a v ripeto sono 28 i motivi a v e 28 quindi le noccioline nel nostro pannello proseguite lavorando questo rettangolo di 28 motivi a v e 28 noccioline per 23 giri e poi ci vediamo alla fine del ventitresimo giro quindi il ventitresimo giro è il giro con i motivi a v dovete finire proprio con i motivi a v ho lavorato per 23 giri e al ventiquattresimo vado a lavorare le parti separatamente quindi le due metà davanti e la parte dietro prendo due marca punti e suddivido le due metà davanti dalla parte dietro quindi una due tre quattro cinque sei motivi a v per il davanti se vi sembrano piccoli non vi preoccupate perché poi andremo a lavorare lungo le aperture davanti quindi due quattro sei al settimo inseriamo il marca punti il settimo motivo fa da separatore tra la metà davanti e il pannello dietro e in questo motivo a v non andremo a lavorare nulla così vedete si formerà poi il quella rotondità sotto la manica quindi lavoreremo le noccioline sulle sei sui sei motivi a v della metà davanti e così facciamo anche con l'altra parte qui andiamo a contare dietro uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici e quattordici quattordici motivi al quindicesimo mettiamo il marca punti e poi rimangono i sei motivi dell'altra metà davanti quindi andiamo a lavorare sulla prima metà davanti ho lavorato le sei noccioline della prima metà davanti sono arrivata nell'ultimo motivo a v prima del marca punti lavoro due catenelle ed una maglia bassa nel punto di separazione prima del marca punti questo motivo lo lasciamo sempre libero quindi andiamo a lavorare adesso il motivo con le v di nuovo di 123 catenelle voltiamo il lavoro e sulla prima nocciolina andiamo a lavorare due maglie alte chiuse insieme una catenella e di nuovo due maglie alte chiuse insieme andiamo all'altra nocciolina e ripetiamo due maglie alte una catenella e due maglie alte chiuse insieme e così via quindi continuiamo sulla metà davanti alternando sempre motivi a v e noccioline ho lavorato i tre pannelli separatamente e quindi la prima metà davanti il pannello dietro e la seconda metà davanti per 16 giri a partire dal giro con le noccioline ho terminato con il giro con i motivi a v adesso dobbiamo cucire le spalle mettiamo i pannelli rivolti con il diritto verso la parte delle spalle verso il dietro quindi i diritti devono combaciare la parte del diritto del lavoro è quella dove i motivi a v sono lavorati appunto dal diritto e le noccioline sono più evidenti mentre il rovescio vedete dove i motivi a v si vede che appunto sono un po più bombati le noccioline meno evidenti quindi il diritto è questa parte qui dove le noccioline sono più e risaltano molto di più e i motivi a v sono dal diritto facciamo combaciare i motivi a v dell'ultimo giro quelli del pannello davanti con le spalle aiutiamoci con degli spilli e puntiamo tre motivi a v 1 2 e 3 cuciremo le spalle soltanto in corrispondenza di questi motivi a v lavoriamo adesso il giro manica con il nostro flora formiamo un cappietto e andiamo a posizionare l'uncinetto dove nel sottomanica dove abbiamo questo motivo a v quello che avevamo lasciato libero e per la suddivisione dei pannelli davanti e dietro inseriamo l'uncinetto ed estraiamo una maglia bassa ora lavoriamo il giro con le noccioline quindi due catenelle e andiamo in in questo spazio tra due noccioline lavoriamo le nostre quattro maglie allungate due catenelle in questo spazio lavoriamo una maglia bassa di nuovo due catenelle in questo spazio una nocciolina una maglia bassa 2 catenelle qui andiamo a lavorare un'altra nocciolina qui una maglia bassa qui di nuovo le nostre quattro qui lavoriamo di nuovo la nocciolina 2 catenelle 2 catenelle 1 maglia bassa 2 catenelle una nocciolina una maglia bassa qui di nuovo la nostra nocciolina dopo le due catenelle e adesso 2 catenelle e una maglia bassa la lavoriamo in corrispondenza della cucitura troviamo un punto ecco dove inserire l'uncinetto e così nella prima metà della manica abbiamo lavorato 1 2 3 4 5 6 noccioline ripetiamo le noccioline così come abbiamo fatto per la metà davanti della manica anche sulla parte dietro della manica quindi altre 6 noccioline da questo lato lavoro l'ultima nocciolina prima del della maglia bassa in questo spazio 2 catenelle e poi vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro ho così lavorato in totale 12 noccioline per la mia manica ora lavoro il giro con i motivi avvi mi trovo sulla maglia bassa e i motivi avvi li devo lavorare sulla nocciolina quindi mi aiuto con una catenella e poi vado sulla prima nocciolina e qui lavoro 2 maglie alte chiuse insieme una catenella e 2 maglie alte chiuse insieme vado sulla seconda nocciolina e faccio la stessa cosa 2 maglie alte chiuse insieme una catenella 2 maglie alte chiuse insieme e proseguo così per tutto il giro lavoro l'ultimo motivo avvi sulla nocciolina 2 maglie alte chiuse insieme una catenella 2 maglie alte chiuse insieme per chiudere il giro con il motivo avvi inserire l'uncinetto nella prima maglia chiuse insieme le prime due maglie chiuse insieme ed estrarre una maglia bassissima una catenella per iniziare all'interno della dello spazio del motivo avvi lavoriamo 4 maglie alte allungate 2 catenelle 1 maglia bassa 2 catenelle poi di nuovo le noccioline di 4 maglie alte allungate in ciascun motivo avvi lavoro l'ultima nocciolina 2 catenelle 1 maglia bassa 2 catenelle e chiudo con una maglia bassissima sulla prima nocciolina del giro adesso lavoriamo i motivi avvi in questo modo e tutti i giri saranno poi così alternando sempre le e noccioline e i motivi avvi 2 catenelle e nella stessa maglia lavoriamo una maglia alta e chiudiamo insieme una catenella e 2 maglie alte chiuse insieme andiamo sulla seconda nocciolina e lavoriamo due maglie alte chiuse insieme una catenella e 2 maglie alte chiuse insieme e proseguiamo così fino a raggiungere la lunghezza che io vi dirò quindi io continuo a lavorare e vi dirò per quanti giri ho lavorato la mia manica ho lavorato la manica per 22 giri ho terminato con il giro con le maglie alte chiuse insieme adesso rifinisco con un giro a maglie basse una catenella per iniziare poi andiamo dentro il motivo avvi e lavoriamo due maglie basse poi nella nello spazio tra i motivi avvi una maglia bassa di nuovo due maglie basse dentro il motivo avvi e continuiamo così per tutto il giro lavoro con un secondo giro di maglie basse una su ciascuna maglia di base e concludo così la mia prima manica e lavoro la seconda manica allo stesso modo quindi terminiamo la manica con 22 giri lavorati alternando noccioline e motivi avvi e poi chiudiamo con due giri a maglie basse una volta assemblata la nostra giacca e sta venendo davvero molto carina dobbiamo lavorare è un giro di rifinizioni a maglie basse per preparare poi il punto che andremo a lavorare lungo le aperture iniziamo dalla scollatura inseriamo l'uncinetto nel primo angolo e lavoriamo una catenella che sostituisce la prima maglia bassa poi ci ritroviamo qui il motivo avvi all'interno di questo motivo lavoriamo due maglie basse una maglia bassa tra i motivi avvi e di nuovo all'interno del motivo avvi due maglie basse qui abbiamo la cucitura della spalla e qui queste due maglie di separazione tra i motivi avvi nel primo sul davanti lavoriamo una maglia e non la chiudiamo e andiamo direttamente saltando la cucitura della spalla all'altra maglia e lavoriamo anche qui una maglia e non la chiudiamo poi passiamo l'uncinetto attraverso tutti e tre gli anellini così abbiamo lavorato una diminuzione questa diminuzione serve a dare rotondità allo scollo andiamo sulla primo nel primo motivo avvi del dietro e lavoriamo due maglie basse all'interno del motivo avvi e poi di nuovo una maglia bassa nello spazio tra i motivi e due dentro il motivo fino ad arrivare all'altra spalla ho lavorato le maglie basse lungo il collo nella parte posteriore e adesso sono di nuovo all'altezza della seconda spalla dove ho la cucitura quindi lavoro di nuovo una maglia e non la chiudo ed una in questo punto tra le tra i motivi avvi del davanti e chiudo insieme concludo la seconda metà davanti lavorando le maglie basse lavoro l'ultima maglia bassa della scollatura nell'angolo e vi faccio vedere il primo giro di scollatura vedete e ho stretto un po il collo ora proseguo lungo il lato di apertura davanti sempre con un giro maglie basse e poi lungo la parte inferiore nella punto dove ho lavorato la maglia d'angolo lavoro una catenella per fare per arrotondare un po l'angolo e poi vado a lavorare due maglie basse in questo primo spazio 2 nel secondo spazio e così via vi rendete conto voi stesse quando lavorate e se dovete aggiungere delle maglie basse durante la lavorazione delle aperture se il lavoro tira altrimenti lasciate così lavorate negli spazi delle maglie alte e se vedete che il lavoro tira e tende a stringere allora aggiungete qualche maglia alta ad esempio una la potete lavorare proprio qui dove ci sono i nodini formati dall'inizio del giro ricordate che tante maglie lavorate lungo la prima apertura e altrettante ne dovrete lavorare lungo la seconda apertura quindi tenete il conto delle maglie ho raccolto lungo la prima apertura davanti 85 maglie basse sono giunta quindi all'ultimo punto e prima di iniziare la parte della vita quindi la parte inferiore della giacca e anche qui lavoro una catenella per l'angolo ed una maglia bassa nel primo spazio poi una maglia bassa sulla nella nella catenella tra i motivi del motivo avvi e tre in questo spazio di nuovo una e tre e lavoriamo così per tutta la fascia inferiore della giacca ho lavorato la base inferiore della giacca sono di nuovo all'angolo che poi mi fa lavorare l'altra apertura davanti quindi una catenella e lavoro 85 maglie basse così come ho fatto nella lungo la prima apertura ho lavorato le 85 maglie della seconda apertura davanti adesso lavoro una catenella e una maglia bassissima nella prima maglia di inizio scollatura per dare la rotondità anche a quest'angolo ho lavorato due giri a maglie basse lungo tutti i lati della giacca adesso dal terzo giro vado a lavorare punto grana di riso lungo le due aperture e alla base inferiore mentre sulla scollatura lavoro sempre a maglie basse quindi tutte le maglie basse vengono lavorate una sopra l'altra normalmente quindi cominciamo dalla scollatura con le nostre maglie basse ho lavorato la mia giacca per cinque righe a maglie basse e intorno tutto intorno l'effetto davvero molto bello poi anche nelle righe a maglie basse si sono alternate le sfumature quindi sia da una parte che dall'altra abbiamo un po di rosa un po di beige un po di avorio e il panna quindi davvero molto molto belle il tutorial di oggi è terminato io vi saluto e aspetto le foto con il vostro cardigan primavera realizzato scegliete sul sito mistrico filati punto it le sfumature che più vi piacciono del flora e poi cercate il rivenditore più vicino a voi se avete difficoltà nel trovare il filato scrivetemi e qui o sui canali social e vi risponderò vi indicherò su quali riven presso quali rivenditori online potete trovarlo ci vediamo alla prossima creazione ciao ciao